La tradizionale benedizione degli animali nel giorno di Sant'Antonio Abate ha origini che vanno ricercate nella Bibbia. Qui siamo a Crispiano nel Tarantino davanti alla Chiesa Madre di Santa Maria della Neve, il parroco Don Michele Colucci. Gli animali da sempre sono presenti nella Bibbia, a parte raffigurati in tanti modi, specialmente nell'iconografia e anche nell'architettura sacra. Basti pensare alle nostre cattedrali, per esempio Ruvo, Barletta, Trani, gli animali fantastici raffigurati che richiamano episodi della Bibbia e anche della mitologia. Quindi gli animali entrano, come dicono i testi della liturgia, a modo loro anche nel piano universale che Dio ha pensato per noi. Sul Sagrato i fedeli portano cani e gatti, uccellini, pesci rossi e tartarughe, animaletti che hanno in casa e che fanno parte ormai della famiglia. Perché nel giorno di Sant'Antonio Abbate? Perché il santo, nell'iconografia classica, è rappresentato sempre attorniato da animali.